Solo gli stupidi non cambiano mai idea. Questa è una delle frasi che metterei in un migliaio di cartelloni per la strada. Nella società in cui viviamo, che è una società piena di informazioni, una società in continuo mutamento, la capacità di cambiare idea di fronte ad informazioni che ci dicono che forse abbiamo torto è una qualità importantissima. Ma allo stesso tempo, cavolo, quanto è difficile cambiare idea per molte persone? È difficile per tre motivi. In primo luogo, ci vuole sforzo. Fondamentalmente devi ripensare delle cose che credi vere. Secondo, ci vuole l'umiltà di ammettere che su certe cose si può aver torto marcia. E in terzo luogo, può essere anche difficile ammettere alle altre persone di essersi sbagliati. Perché purtroppo ci sono ancora persone che pensano che se cambi idea non sei coerente. Quindi sì, cambiare idea non è assolutamente facile. Però in una società che è in continua evoluzione, anche le nostre idee dovrebbero essere in continua evoluzione.